Una parte importante, tanti anni di lavoro, sono quelli che Roberto Livraghi ha dedicato alla Camera di Commercio di Alessandria e il primo giugno lascerà queste stanze. Ecco, vogliamo fare un bilancio di tanti anni e approfittiamone anche per capire come abbiamo lasciato l'economia alessandrina. Saranno il 31 di maggio 41 anni e mezzo di lavoro per la Camera di Commercio, quindi questa cosa è importante nella vita di chiunque, la dimensione del lavoro è sicuramente importante. Quello che ho capito è che forse non lascerò in modo definitivo queste stanze perché comunque continua il mio impegno di commissario ad acta, è incaricato di portare a conclusione il processo di fusione tra le due Camere di Commercio di Alessandria ed Asti e in secondo luogo la Giunta, che ringrazio di questa attenzione, mi ha chiesto di continuare a occuparmi di Palazzo del Monferrato, del Museo Alessandria, Città delle Biciclette e delle attività che l'azienda speciale Asperia svolge nel settore del turismo. Sono cose che farò, come si dice, a titolo onorifico perché così prevede la legge ma le farò assolutamente volentieri. Quanto alla situazione generale, la giornata dell'economia ha fatto un po' il punto di una situazione che continua a presentare dei chiaroscuri. Un grande sviluppo dell'export, una crescita della produzione industriale, che sono fatti positivi, si accompagnano a un ristagno sostanziale del livello occupazionale, addirittura con un lieve peggioramento dell'indice di disoccupazione. Sono convinto che finché non si muove quest'ultimo indicatore, non potremo dire di essere usciti dalla crisi. Anche se, ripeto, le imprese della nostra provincia, le 43.000 imprese della nostra provincia, sono impegnate a girare e a svoltare un periodo che oramai è troppo lungo e le difficoltà hanno segnato in modo forte. Credo che ci sia lo spazio per un po' di ottimismo. Un'ultima parola. Lei lascia dopo tanti anni. Se dovesse fare una critica agli organi di informazione in generale, quale farebbe? Non mi sento di fare delle critiche particolari perché veramente in tutti questi decenni gli organi di informazione sono stati fondamentali. Poi all'interno di questo c'è il diritto di critica. Nessuno di noi fa tutte le cose giuste. Sovente si fanno degli errori ed è giusto che vengano rimarcate. Io credo che l'informazione in provincia di Alessandria in generale si dimostri assolutamente professionale e sia anche nell'era di internet e dei social un passaggio basilare per poter far giungere alla cittadinanza un'informazione corretta e completa. Quindi ho solo da dire grazie.